Sono qui a Montecitorio, ho fatto un giro in Parlamento, ho capito che è una situazione difficile e pesante, che al di là delle parole e di quanto viene detto pubblicamente c'è molta apprezzione, molta preoccupazione e manca una strategia di lungo periodo che ci potrà portare dei problemi. Ecco perché ritorno a casa convinto sempre più che sia opportuno dedicarmi ai problemi della mia città direttamente, più modesti ma più operativi e più pratici. Quindi inizierò adesso oltre il giro nei paesi che è stato veramente interessante e proficuo e ringrazio i sindaci e tutti coloro che ci hanno accolti molto cordialmente, inizierò un giro in città, prima nelle frazioni, queste nostre bellissime località e poi porta a porta per raccogliere indicazioni, idee, suggerimenti e anche qualche osservazione, qualche stimolo che poi porteremo direttamente all'attenzione dell'amministrazione che sta lavorando con molto impegno in questo periodo.